Non siamo un parchito, non siamo una casta, siamo cittadini, tutto e basta, ognuno vale, 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 vale Tanto i luoghi li conoscete, potete seguirlo un po' come un racconto Attualmente la metropolitana, come ho detto prima, arriva a San Giovanni, poi arriva a Lambaradam all'incirca verso Porta Metronia e poi sale verso la Navicella, il Celio, l'ospedale militare del Celio per andare a Colosseo, Fori Imperiali, Piazza Venezia e invadere il centro Abbiamo detto, il centro si può servire non solo attraversandolo, ma anche lambendolo Qual è la via naturale che lambisce l'area seicentesca, barocca e rinascimentale? Il Tevere Allora facciamo passare, non certo la metropolitana, sotterranea lungo il Tevere ma una metro leggera di superficie, che era il vecchio progetto di Italo Insolera l'urbanista Italo Insolera, ormai anziano, con il quale ho parlato recentemente e ho detto, siamo arrivati alla stessa conclusione Dunque, dove dovrebbe finire quindi la metro C? La metro C, dopo San Giovanni, dovrebbe scendere verso le terme di Caracalla non ci sono problemi né idrici né geologici né anche archeologici nonostante la zona, e comunque viaggia sempre a 25 metri di profondità per dirigersi verso il Circo Massimo e da lì attestarsi verso Via della Greca dopo il rosseto municipale, insomma comunale arrivato lì c'è la connessione con la metro B di Circo Massimo e non più di Colosseo e siamo a due passi dal lungo Tevere a questo punto, riemersi in superficie con un sistema di tapirurano che ne ho anche a piedi perché è talmente vicino si incrocia una metro leggera di superficie che ha delle caratteristiche tecniche, le abbiamo studiate anche con ingegneri trasportisti che sono compatibili con il servizio e con la sua funzione che partirebbe da Ostiense dove il capolinea di San Silvestro sarà trasferito a Ostiense Partigiani da quelle parti là dove è la Roma Lido, naturalmente e dove è un'altra stazione della metro B per fare tutto lungo Tevere con tutte le fermate per connettersi con l'otto a Ponte Garibaldi e quindi penetrare verso Trastevere penetrare verso Piazza Navona, la Chiesa Nuova Piazza del Popolo attraverso delle basse elettrici che sarebbero nelle testate delle fermate per arrivare a formare una rete addirittura di piste ciclabili come dicevo prima o comunque di tramvie leggere ecco come si serve il centro storico non con una metropolitana costosissima che si fermerebbe ogni giorno per problemi idrici, geologici e archeologici e da quell'altra parte si attesta verso Tordiquinto e serve tutta quella zona sportiva culturale, musicale, architettonica e va a finire sulla Roma-Viterbo e sull'anello ferroviario ora il costo della metro leggera vi dico soltanto le caratteristiche è una metro leggera che sta perfino a Istanbul che è lunga 30 metri ha una larghezza di appena 2,90 metri su sede propria e che ha una portata di 6.000 passeggeri ora se voi fate il conto siccome questa sopporterà circa porterà 300 passeggeri la vettura, insomma il treno di superficie con una frequenza 1 ogni 3 minuti fate 20 passaggi all'ora per 300 e fanno 6.000 quindi i dati trasportistici ci sono i costi sono 70 milioni contro 220 milioni io penso che non soltanto il comune ma la corte dei conti ci dovrebbe ascoltare perché questo è il vero scandalo non siamo un partito non siamo una casta siamo cittadini tutto e basta ognuno vale buono ognuno vale buono ognuno vale buono vale, vale buono non siamo un partito non siamo una casta siamo cittadini tutto e basta ognuno vale buono ognuno vale buono ognuno vale buono vale, vale, vale buono Grazie a tutti.